Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video, anzi benvenuti nell'ultimo video dell'anno L'ultimo video che chiuderà quest'anno, voglio parlare un po' di come è andato quest'anno, di cosa mi è successo Di cosa ha significato per quest'anno, eccetera, eccetera, eccetera Intanto inizio anzi dicendo che l'anno si è concluso in maniera secondo me buona Tutti ovviamente come ogni anno, mamma mia meno male che passa l'anno Perché quest'anno è stato il peggiore di tutta la mia vita Ma dai, ma il peggiore cosa? Ogni anno sarà sempre il peggiore dell'anno a fine anno Guarda caso, poi d'estate è il migliore anno della vita D'inverno è l'anno già migliore della sua vita perché l'anno precedente faceva cagare Tanto funziona sempre così Quindi per me invece si conclude un anno bello Perché quest'anno è stato il primo anno che ho vissuto a pieno di YouTube Perché come sapete l'anno scorso non è stato un anno intero per YouTube Ma sono stati sei mesi di YouTube e basta E pensate che già l'anno scorso dopo sei mesi YouTube mi aveva completamente stravolto la vita in meglio Adesso la mia vita è ancora più bella Ripeto, sto passando un momento di stanchezza generale Perché comunque credo che ci sia stato un accumulo di spostamenti E anche di star male fisicamente Perché ho stato male in questi giorni Nei momenti sbagliati o meglio Mai nessun viaggio per YouTube Quindi per vedere comunque persone che gravitano intorno a questo mondo Compresa anche le persone che mi seguono Perché sono venuto anche a Torino appositamente per vedere persone che mi seguivano Di conseguenza nessuno spostamento di questo genere è sbagliato secondo me Era il periodo che era veramente intenso Tra feste, altri spostamenti Adesso riparto Sono stato male nei due giorni in cui in realtà dovevo registrare Quindi ho perso i due giorni Mi ero prefisso e ho detto vabbè Natale, Natalino niente Però quei due giorni li registro E sono diciamo in linea con quello che voglio fare Sono stato male, quindi una merda totale Di conseguenza levando quest'ultimo periodo di stanchezza È stato un anno bellissimo Mi sono spostato un casino Ho visitato un sacco di posti Ho conosciuto un sacco di persone Sono stato a stretto contatto più del normale Con tutte le persone che gravitano a questo mondo di YouTube Gravitano attorno, scusate, a questo mondo di YouTube Che vanno da magari da stare più tempo con i mates Tanto tempo con Tudor Sono ritornato in Roma da Snitex per due volte quest'anno Bellissimo Ci siamo divertiti un sacco Zanzo Marci Charlie Scusa Marco Se non ho detto Marco al volo Ma Marco Eco Ragazzi, tantalmente tante persone Che arrivano attorno a questo mondo Che non riesco nemmeno a ricordarmi di tutte Ma ho passato un sacco di tempo con loro Mi sono divertito tanto Conoscivo tantissimi di voi Ho passato tanto tempo nelle fiere Tanto tempo in treno È comunque divertente Quando sai che dall'altra parte Però della fermata del treno Ci sarà qualcosa di bello Insomma, un anno da ricordare Ma spero che il prossimo anno sia meglio E con questo non sto dicendo come dicono tante persone Voglio che il prossimo anno sia meglio Perché questo ha fatto che gare Voglio che quest'anno il prossimo che viene sia meglio Perché comunque sperare in meglio Per l'anno prossimo fa comunque bene Ma riassumendo quest'anno Lo riassumerei con Ho fatto tante conoscenze nuove E ho consolidato alcune conoscenze vecchie Ho fatto amicizie nuove Ma che erano state accantonate Per colpa di altri Quindi diciamo che ho fatto pace con qualcuno Con la quale avevo litigato indirettamente Senza volerlo per colpa di altri Cioè sentite che lavori Ho fatto esperienze di qualunque genere Nuove Nuove Esperienze nuove Fa bene Aria di nuovo Ho chiuso tanti rapporti Ho diciamo Voluto chiudere tanti rapporti Rallentare tanti rapporti Che fossero di amicizia o meno Perché fondamentalmente sono uno che Vuole concentrarsi su poche cose Ma tanto Rispetto a concentrarsi su tante cose Perché mi sento quasi obbligato A dover dare importanza un po' a tutto Per me le cose importanti sono poche Le cose importanti e le persone importanti sono poche Di conseguenza devo decidere tra Passare una settimana intera con due persone tanto importanti O passare un giorno Un giorno per uno con tante persone di cui non me ne frega niente E allo stesso modo un giorno solo con le persone importanti Sinceramente e indubbiamente Penso di voler passare solo quei sette giorni con due persone Rispetto a un giorno per uno con tante persone di cui non me ne frega un cazzo Sembrerò cattivo in questo frangente ma in realtà non lo sono Sono solamente realista Per tutti è così ma per tanti è un obbligo Dover vedere le persone Per tanti è un obbligo Doverle accontentare Per tanti è un obbligo Fare tante cose Io nella mia vita non voglio pormi obblighi Voglio pormi solamente cose che mi fanno star bene E voglio essere obbligato a sorridere al massimo Se è l'unica cosa che posso Diciamo dire È un po' come l'esempio che faccio di Natale Io non devo sentirmi obbligato a vedere i parenti Non devo sentirmi obbligato a fare i regali Come tante persone si sentono Io se voglio fare un regalo lo faccio Che sia Natale o che sia Capodanno o che sia il 7 di Agosto Ad esempio ho fatto un regalo a mio amico Che non me l'ha rifatto Ma non lo sapeva nemmeno Io l'ho portato il 27 peraltro Dicembre Perché vuole fargli un regalo Punto Sono passato in un posto Ho visto una cosa carina L'ho detto ho pensato a lui L'ho preso Io l'ho portato Fine Non c'è bisogno di Natale per farlo Si può fare tutto l'anno Non c'è bisogno di dover vedere una persona Per forza Perché tu C'hai il suo numero su Whatsapp Ho avuto anche tanti sbalzi Di non so nemmeno cosa In termini di relazioni amorose Ho usato la parola amorosa Che è molto grande Ma per far veloce A farvela capire Però diciamo Non ho trovato una stabilità in realtà Ancora Ma perché penso di non essere stabile io Come persona Visto che ripeto Voglio dedicare tanto tempo Alle persone Alle cose Alle cose che mi rendono felice Non voglio dedicare tempo A cose Non effimere È brutto dire effimere Perché potrebbero anche non esserlo Però realmente Se io dedico tutto me stesso A una persona Che poi non contraccambia Allo scopo dopo tre mesi Ho buttato via tre mesi Che come voi sapete Adoro passare con cose Che mi rendono felici Questa È una cosa che mi rende felice È una cosa comune Che faccio Bevo acqua In maniera comune E dico Ok Ho conosciuto questa Provo a berla Magari mi piace Magari per i primi due mesi Mi piace E non trascorro più tempo Con l'acqua Va bene Però dopo due mesi Questa mi manda a fanculo E sparisce Io ritorno a sorseggiare La mia acqua Però ho buttato via due mesi E potevo passare Con la mia dolce acqua Questo cosa vuol dire In realtà è un esempio Che fa proprio cagare Come esempio in realtà Però per dire Se magari trovo una ragazza Che mi piace O una persona O la quale parlo molto bene Ci parlo tanto E trascuro magari Amici Come Stefano Come Alessio Oppure il canale Quindi trascuro voi Che sapevano questo video Per quella persona E dopo tre mesi Quella persona Non mi dà niente E sparisce dalla mia vita Io non ho passato Del tempo con voi Che mi volete bene Non ho passato del tempo Con delle persone A cui voglio bene E che mi vogliono bene Per passare a una persona Che in realtà Non mi voleva bene E me lo mette in culo Per farla breve È stato un anno Che ovviamente Ha portato a una crescita Ma normale Su Youtube Non tanto di numeri Ma di persone Che mi conoscono Cosa vuol dire? Vuol dire che realmente Le mie visualizzazioni Per farvi un esempio Numerico Al mese Si sono aumentate Da 300.000 A picchi anche Di 2.100.000 Al mese Nonostante Mi diciate voi Ma il tuo video Ha fatto 10.000 visual In realtà I video che fanno Poche visual Poi li riprendono Con il tempo Magari adesso Guardate un video Che fa 20.000 visual Guardate tra 6 mesi E 70.000 Siccome ci sono Mille video sul canale Se voi lo fate per mille Capite che i numeri aumentano Con picchi Di 2.000.000 Di visual Allora sono un po' Ricalato Ma il periodo di Natalizia Stato una merda Un po' per tutti Per dire che Non solo Sono aumentate le visual Per video Ma sono aumentate le persone Che sanno che esisto Perché se a Natale D'anno scorso Avevo 30.000 iscritti E quest'anno Ne ho 195.000 Ad occhio Mi conoscono Altre 165.000 persone Vi ricordo che 165.000 persone Sono 4 stadi Della Fiorentina Pieni zeppi Di conseguenza È una cosa Che comunque Dentro di me Mi dà Un senso di felicità Immenso E anche una responsabilità Mentale Che devo mantenere Ovvero che So che quello che dico Potrebbe essere visto da Ad esempio Ho espresso un pensiero forte Sul Sul Cosa ne penso Della morte Di tutte le celebrazioni Che si fanno qua in Italia Quando una persona Viene a mancare E quel video è stato visto Appunto Da 196.000 persone Ok Di conseguenza So Che quelle parole Possono essere sentite Da qualcuno di influenzabile Ovviamente Le mie parole Vuono essere filtrate Perché ognuno Deve avere un filtro In testa Come ho sempre detto E come dirò Voglio che Il dogma Che il prossimo anno Sia basta cagate Basta merda E cerchiamo di capire Cosa guardo E cosa ascolto In generale Sia da persone per strada Dalla televisione Da youtube Dal web Da qualunque cosa Nel senso Io cerco sempre di mettere Io stesso un filtro Alle parole che dico Magari se dico qualcosa Che però penso veramente Dico prima Però Io lo dico perché lo penso Io lo dico perché lo voglio dire Ma voi non dovete pensarla come me Voi dovete farvi la vostra idea Nemmeno avere la mia idea O un'altra idea E scegliere Voi dovete avere le vostre idee E farvele da voi Quindi quel video È stato visto a tante persone Di conseguenza Quel che è stato detto Io sono cosciente Che l'ho detto E se lo dovessi rifare Lo rifarei Lo ridirei uguale Non cambierei nessuno Di quelle parole Il prossimo anno ragazzi Ripartiremo in pompa magna Appena tornerò a Firenze Perché ovviamente Non 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 tornerò Prima di gennaio Quindi parto Oggi Che ora Sto registrando i video Il 27 E torno circa al 3 E in realtà posso anche dirvi Dove sono Perché lo sapete già da Instagram Sono a Curmaie Con step Surry Klaus Masarone Io Siamo lì Lassù E prima volta Che io vado sulla neve Prima volta Che non faccio Capodanno a Firenze Alleluia Quindi spero Che anche il vostro Capodanno Stasera sia divertente Ripeto Mai associare Capodanno A feste Alcol Qualunque cosa brutta Che ci sia Ma semplicemente La fine dell'anno Ragazzi È un giorno Come un altro Cioè io Festeggio Perché sono con i miei amici Ma se i miei amici Non mi dicessero niente Di rimare a casa Non cerco di andare là Di fare questo Di fare quell'altro Per me si può anche dormire Anzi in realtà Io ho quattro a Capodanni Che alle una Vado a letto Anche mezzanotte e quaranta Perché fondamentalmente Come non festeggio le feste Festeggio il Capodanno Come una serata tra amici Quindi se vado a ballare È perché vado a ballare Con i miei amici Non perché è Capodanno Dopo direte Non dire puoi andare Qualunque giorno dell'anno A ballare E no E no Puoi andare il sabato Perché la domenica Non si va a lavorare I ragazzi non vanno a scuola In conseguenza Siccome Capodanno è festa Perché anche se non è sabato Non si va a lavorare Lo stesso l'uno Si può andare la sera Tutti insieme Capito? Capito? Mi indovino un po' La settimana bianca Quando si fa? Quando c'è la neve A cui ormai c'è la neve adesso Quindi anche una settimana bianca Mi faccio E magari questa settimana bianca Mi creerà una Una pace Dentro incredibile Perché ovviamente Non usciranno video Quindi non sarò stressato A dover dire Mi alzo alle 7 per editare Mi alzo alle 8 per caricare Che poi sembra che io Lo debba fare per forza Ma in realtà lo voglio fare Però siccome non esiste Tanto tempo Non esiste un modo Di crearsi tempo Oltre le 24 ore Che il tempo ci concede Di conseguenza Mi tocca crearmelo Levando del tempo A delle cose Ad esempio il dormire E magari ripeto Questa vacanza di 7 giorni Dove non dovrò fare Tutte queste cose Perché i video usciranno Quando ci saranno Ce ne saranno 4 Massimo 5 Credo Non di più Anzi 3 più 1 4 Quindi 4 massimo 5 Volevo dire 3 massimo 4 Comunque Quando usciranno questi video Non dovrò fare altri Quindi partirò da Firenze Con i video praticamente pronti Di conseguenza Non dovrò oversforzarmi Per farli uscire Quando sarò là E quindi mi riposerò Tornerò penso il 3 o il 2 A Firenze E entro da lì Ripartirà il regime Di video pazzo Sperando di non dover Ripartire subito Per Milano Tra l'altro Vi dirò la chicca La dirò adesso Nonostante suppongo Il video non abbia raggiunto 2000 like Ho detto Se a 2000 like Ci arriviamo Vi dico un segreto Sapevo già che il video Sarebbe diciamo Non andato in feed Quindi non sarebbe Andato sulle vostre home Quindi nessuno Se lo sarebbe cagato Sapevo già che non arrivava A 2000 like Non ve lo voglio dire Probabilmente Forse È una possibilità Parecchio Parecchio combattuta Ma molto probabile Da gennaio Andrò a vivere a Milano Per almeno Almeno 6 mesi Ma forse un anno C'è una possibilità Anche che io non vada Cioè forse che io non vada Dipende da molte cose Ma c'è una grande possibilità Che io vada a Milano A vivere per un anno Perché Milano Perché Milano è il fulcro Di tutto ciò che gravita Intorno a Youtube E la cosa mi eviterebbe parecchio Per esempio Se io stavo a Milano Tutto questo stress E ho ricevuto sotto Natale Per i video Non ce l'avevo Perché abitavo a Milano Non dovevo fare i video Per il 14 Per andare a Milano Per poi andare a Torino Da Milano si parte tutti insieme Si passa le serate insieme Vedere di più Stefano Ci sono un sacco di persone Tutte coloro che parlano La mia lingua Di conseguenza Questo spostamento Sarebbe Worth Utile Questo ragazzi È stato un anno Bello Come vedete Ho parlato per 14 minuti Solamente di cose belle Di conseguenza Anche il ragionamento Alla città metabolo All'allontanarsi Dalle persone Inutili ed effimeri Per quanto sia Un ragionamento triste Però è vero E lo dico col sorriso Sono contento di aver fatto Questo passo avanti Ma comunque In realtà Questo video conclude qua Perché ho parlato bene Tutto l'anno Non ho niente di brutto da dire Quindi Io ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Commentate Dicendomi cosa ne pensate Del 2016 E cosa vorreste Dal 2017 Iscrivetevi al canale Se vi va Ragazzi Per questo video E per quest'anno È tutto Noi ci vediamo nel 2017 Ciao Lini